Un machine che è il nome del nostro marchio oggi espone Allolive Noi ci occupiamo di riutilizzo di materiali appunto di scarto come i tappi o altre cose per riutilizzarli e farci svariate cose di bigiotteria tra cui orecchini, cerchietti, anelli, varie cose Made in confusion Sono principalmente borzette in materiale riciclato, carta plastificata, tutto realizzato a mano Io faccio delle magliette dipinte a mano e il marchio è Svenska T-shirt There's no more sun, there's only cloudy days